L'Igiene Digitali è un gruppo di persone, tra l'altro è un gruppo abbastanza ampio, sparso su tutto il territorio nazionale, che ha come obiettivo quello di creare una rete di professionisti in ambito digital, sia per poter generare delle opportunità sul territorio nazionale, sia per dare supporto all'ecosistema delle start-up e soprattutto per diffondere la cultura digitale in Italia. Lo fatto fino ad oggi è generare rete, creare dei momenti di aggregazione, sviluppare questa conversazione online e offline che abbiamo fatto, sta portando un suo discreto beneficio alle persone che ne stanno facendo parte e non solo. Se pensi ai progetti di start-up che sono nati, alle attività di mentorship che stiamo facendo su alcune start-up nate all'interno del network, più che a molte opportunità generali per neolaureati che hanno trovato delle occupazioni o viceversa delle aziende che hanno avuto modo di conoscere dei talenti di persone da portare all'interno dell'azienda. L'importanza della condivisione è nella conversazione, nella conoscenza e nel confronto, ossia conversazione perché condividere implica connettersi con altre persone e iniziare una discussione su un certo tipo di tema, conoscenza perché lo scambio di idee derivanti dalla condivisione genera conoscenza e confronto perché significa mettersi in gioco e ricevere i feedback che tra l'altro poi migliorano lo spunto iniziale. Grazie 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 Grazie